Quindi tutto quello che è stato fatto fino ad oggi da sei toscani è assolutamente illegittimo e questo ne pagheranno le dovute conseguenze. Tutti i disagi che i cittadini hanno subito in questi giorni e che spero non subiranno nei prossimi, li rimetteremo in conto. Cioè hanno fatto un'operazione che non sta né in cielo né in terra. È Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e presidente di Ato Toscana Sud, ad alzare i toni sulla questione rifiuti che da una settimana a questa parte sta creando notevoli disagi nell'Aretino. Dalla Valdichiana all'immediata periferia della città di Arezzo, qui siamo a batti folle, il mancato rinnovo dei contratti ai lavoratori interinali da parte di sei toscana ha determinato l'interruzione perlomeno momentanea del servizio di raccolta. Purtroppo devo notare, devo dire non senza meraviglia, che questo avviene pochi giorni dopo che i commissari hanno cessato il loro mandato. Quindi è tornato tutto in mano, anche la gestione del contratto, un consiglio d'amministrazione che dopo aver creato un bilancio con vari milioni di debito non riesce nemmeno a gestire la raccolta. Questo secondo P pone nuovamente il quesito circa l'opportunità o meno di una risoluzione anticipata del contratto. Io ho sempre sostenuto che essendo un contratto devono sussistere fondati motivi per poterlo risolvere anticipatamente. E devo dire che fino a ieri o ieri l'altro i disservizi c'erano, perché non è che non ci fossero stati, ma non erano tali da creare quel presupposto legale per poter arrivare alla risoluzione anticipata. Certo la situazione è cambiata, perché nell'ultima settimana si è assistito all'assenza di personale che raccoglieva la spazzatura. Quindi è una palese violazione del contratto. Riesamineremo tutta la faccenda e se ricorreranno le circostanze per poter andare alla risoluzione anticipata del contratto ci andremo. Cioè una cosa deve essere certa, i sindaci che rappresentano i cittadini non sono disposti a tollerare che alcuno li prenda in giro. E in questo momento Sè Toscana ci sta prendendo in giro.